Scusate! 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 Mi risponda! Ma chi la vuole lei? Io sto parlando con il coso qui Steve Dovrei vedere qualcun altro a parte Steve Non sai che sbagliate Fatti sbagliare Deve essere di 10 per 10 Fatti sbagliato Tutto sbagliato 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Qui è di 11 Questo lato qui è di 11 Questo lato qui è di 11 Rimediato Sta rimediando... Ok È strabo Ho un lato grasso E adesso non mi si vede più Vabbè, tu sei un po' non so che si vuole vedere La luce la comando io Pini Pini Pineto Ehm... Se non lo stiamo nemmeno usando Scusate! Perché... Io non ho avuto di code perché non li tallo Adesso il said sto male Adesso se ti hai fatto male 1,2,3,4,5,7,9,9,9,9,9,9,9,9, 7,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 lama ma i mattoni di pietra mi piacciono a me fammi vedere che mattoni di pietra ma questi sono i miei preferiti faccio fondamenti che abbiamo che che schiava babà ali mi vuole rompere casa perché ho usato i suoi stessi materiali ti pisci un test perché hai fatto un buco qui ma io non lo voglio la porta dentro la bocca esatto si chiama 70 poi blocco i comandi per far esplodere video non è il nostro nel tuo bimbo bon non non mettere la musica perché se c'è se c'è copo se c'è copo io mi arrabbio se c'è copo scappa in messico si rompe la bici quelli che hanno dato la bici l'hanno preso alla grotta oh no è viva era più famoso di te oh no mi distrugge casa finiamo fuori oh no il copo il copo io no copo no non mi piace il copo a nessuno piace il copo cosa vuoi far uscire dalla bocca dell'ender dragon ma io ho posizionato un blocco mi ha rotto un blocco l'ha messo subito ma io ho posizionato un blocco mi è scomparso no io ho posizionato un blocco mi è scomparso io non mi fido di te quindi è bugiardo ale cos'è questo posto aiuto non ci vedo mamma mia ma è buio dentro casa mia non provare a entrare a entrare chi sono cinese vai via ti denuncio per il copo lì sopra casa vedo il nome trasparente vai via ti denuncio per il copo è qui sopra vai vai è stupido non c'è ma a me non mi interessa ricostruiscilo no credo di aver sbagliato qualcosa ma sembra la copola del nero io volevo rubare la casetta di alice e poi ho creato una nether star ho creato una mela una mela che gusto è la mela fragola di che coloro è verde no copy 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 no c'è il copo c'è il copo c'è il copo del mio video stiamo facendo in due il video oh c'è il copo ma non è il blu? blu no marrone i denti se li fatti gialli brutta cosa no devo mettere qui un copo e qui un altro copo no il copo no dove i fanni me lo chiedono no ah il numero mio è 3 pisci allegro 5 pezzi 5 pezzi di meo e 8 pesci pesci? eh no pesci ma passa viene il copo là mi viene il copo? viene il copo? copi no il copo ma non so il po non so come si fa il settore io non ci ho fatto fare la porta quindi non gioco più fine vuoi fare una porta normale? no io voglio fare la porta con i pistoni quindi addio addio che se v как your best per v